Sono tre gli iscritti nel registro degli indagati per la morte di Antonio Di Lollo, il 46enne, rimasto folgorato dall'alta tensione. L'aggiunta regionale ha deciso Alberto Manfredi Selvaggi, commissario straordinario Asrem, fino alla scelta del nuovo direttore generale. Isernia coltivava marijuana sul balcone di casa, uomo residente nel capologo Pentro, denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile. Ritardi nell'attivazione della ZTL nel centro storico di Venafro, Viscione chiede Luni, Ricci è molto onerosa, non ci sono fondi. A Vasto Girardi sta nascendo un piccolo villaggio con la legna da ardere, l'ideatore, un modo per valorizzare il territorio. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di TV Molise, telegiornale che apriamo con la cronaca. Sono tre gli iscritti nel registro degli indagati per la morte di Antonio Di Lollo, il 46enne, rimasto folgorato dall'alta tensione, mentre stava tinteggiando un capannone nella zona industriale di Castel di Sangro. Sono tre i nomi scritti nel registro degli indagati per l'incidente sul lavoro che è costato la vita ad Antonio Di Lollo, il 46enne di Rocca Ravindola, morto folgorato mentre giovedì scorso stava tinteggiando un capannone nella zona industriale di Castel di Sangro. Si tratta del proprietario del cantiere, cioè l'amministratore delegato dell'azienda, nella quale il 46enne stava svolgendo i lavori. Insieme a lui anche due persone legate al noleggio del cestello elevatore su cui si trovava l'operaio, quando toccato i fini dell'alta tensione, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Un atto dovuto, ha spiegato Antonio Caranci, avvocato della famiglia Di Lollo. Il legale, insieme ai parenti della vittima, sono in attesa di novità sulle indagini, soprattutto in relazione alla distanza tra quei fili dell'alta tensione e la facciata dello stabile che il 46enne stava pitturando. Intanto nel pomeriggio effettuata l'autopsia, l'incarico è stato affidato al dottor Ildo Polidoro, anatomopatologo di Pescara, che nelle prossime settimane scioglierà le riserve. Si dovrà far luce sulla causa del decesso, anche se sin da ora. Sembrano esserci pochi dubbi, Antonio Di Lollo è rimasto folgorato da una scarica da 20.000 volt, più rilevante invece capire le modalità con cui l'operaio ha perso la vita. In queste ore, inoltre, la procura ha disposto anche una perizia tecnica sui mezzi utilizzati e sullo stato dei luoghi per verificare eventuali anomalie o irregolarità sul piano della sicurezza. Già domani potrebbe arrivare il nulla osta del magistrato per la riconsegna della salma ai familiari. Nei prossimi giorni, il funerale, sono ore di angoscia a Rocca Ravindola, ancora scossa dalla morte di un giovane padre di famiglia. Un ragazzo per bene, sempre molto disponibile. Questo è il ritratto fatto da amici e conoscenti, che si uniscono al dolore della compagna e della figlia di soli 11 anni. Continuano le scorribande dei ladri nelle frazioni di Sernia. La notte scorsa diversi tentativi di furto sono stati segnalati a Colle Marino. I malviventi hanno tentato di introdursi nelle abitazioni attraverso i balconi, ma i rumori hanno messo in allarme i proprietari una volta scoperti. I ladri si sono dati alla fuga dell'accaduto. Sono state informate prontamente le forze dell'ordine. Nella seduta dell'Aggiunta regionale, tenutasi nella tarda mattinata di oggi, è stato nominato commissario straordinario dell'Asrem, il dottor Alberto Manfredi Selvaggi, attuale direttore di Arpa Morise, in carico a tempo che durerà fino alla scelta del nuovo direttore generale. Vediamo il servizio di Enzo Di Chetano. Vertice Asrem, per ora si tratta solo di un traghettatore. Infatti nell'ultima seduta della Giunta regionale è stato nominato quale commissario straordinario dell'azienda sanitaria Alberto Manfredi Selvaggi, attualmente direttore generale di Arpa Molise ed ex dirigente della stessa Asrem. L'incarico durerà il tempo necessario alla conclusione delle procedure previste per l'individuazione dei nuovi direttori sanitario e amministrativo. Si tratta di una nomina a tempo fino alla scelta del nuovo direttore generale. Restando sempre sul tema sanità, da registrare la presa di posizione dell'Avvocato Enzo Iacovino, che chiede una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Molise. Chiedo al neopresidente della Giunta di istituire una commissione d'inchiesta sulla mala gestione dell'emergenza Covid che ha provocato 800 morti, afferma Iacovino. Il Comitato Verità e Dignità, vittime Covid-19, è pronto a dare il suo contributo con le sue denunce, documentazioni e testimonianze. Il presidente Roberti ha fatto diverse battaglie per una sanità migliore e oggi anche per coerenza ci deve far capire perché, chiede Iacovino, come sia possibile che siamo arrivati a questo punto, ma soprattutto perché la Regione non ha ancora un centro Covid, nonostante i 9 milioni di euro stanziati dal 2021. A tenere banco infine è anche la questione Roxy, con Roberto Gravina che ha preannunciato un'interrogazione urgente per bloccare la realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale sul terreno dell'ex Romagnoli. Ed ora, come preannunciato dal nostro direttore, ascoltiamo proprio le dichiarazioni del Consigliere regionale Roberto Gravina sul caso Roxy. La prima commissione ha trattato il rendiconto che era stato osservato dalla Corte dei Conti non parificato perché abbiamo espresso un voto negativo, perché non fa altro che riprendere quelle che sono le osservazioni da parte della Corte dei Conti, ma soprattutto è un rendiconto figlio della vecchia gestione. Oggi siamo impegnati, abbiamo dato la massima disponibilità finché si arrivi subito all'approvazione del bilancio previsionale perché la nostra regione è forse l'ultima d'Italia, è l'ultima regione che essendo dotata di un bilancio di previsione non può neanche consentire la spesa, vuoi per il pagamento dei fornitori, per l'erogazione dei contributi ai comuni. Poi è stata presentata, la presenterò lunedì, un'interrogazione urgente per comprendere quali sono le reali intenzioni della Giunta regionale e atteso che con l'approvazione della delibera di Giunta che di fatto pone in vendita l'area dell'ex Roxy si leggono tra le pieghe di quella delibera delle questioni poco chiare, altre invece che possono offrire una soluzione e siamo assolutamente disponibili ad un confronto purché non si metta mai in discussione quella che fu l'adozione di un atto all'interno del Consiglio Comunale nel lontano 2014 che vuole al centro della città un nuovo parco urbano e siamo ovviamente favorevoli a che l'immobile sarà un immobile di edilizia pubblica che possa ospitare magari la sede della regione ma anche altri servizi pubblici per il cittadino. Al di fuori di queste soluzioni ovviamente siamo assolutamente contrari ma siamo disponibili ad un confronto ed è per quello che una vicenda, tra l'altro, molto opaca deve trovare una soluzione e saremo assolutamente guardinghi rispetto alle reali intenzioni che l'amministrazione regionale poi dichiarerà all'interno del Consiglio regionale. E ora torniamo a occuparci dei cuccioli dell'Orsa Marena sono vivi ma si sono separati a comunicarlo è proprio il Parco Nazionale da Bruzzo, Lazio e Molise dopo quattro giorni di ricerche ininterrotte abbiamo la consapevolezza che i cuccioli dovrebbero essere entrambi ancora vivi e che si sono separati si legge nella nota del PNALM possiamo confermare che i due sono molto mobili e attivi sul territorio tanto che sono stati avvistati nei dintorni di due centri abitati situati all'interno del perimetro del Parco anche se in momenti diversi dopo il fallimento dell'ennesimo tentativo di cattura il Parco ha reso noto che proseguono e proseguiranno senza sosta le attività di ricerca e che la loro mobilità è un elemento che fa ben sperare sulle condizioni di salute dei cuccioli e sulla loro capacità di sopravvivenza intanto si attendono i risultati della necroscopia e della perizia balistica che faranno sicuramente luce sulla reale dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Amarena ritardi nell'attivazione della ZTL nel centro storico di Venafro Viscione chiede Lumi il sindaco Ricci risponde è molto onerosa non ci sono le risorse Domenico Marzocchella ZTL nel centro storico di Venafro l'ok del ministero al progetto approvato dalla giunta Ricci risale a un anno e mezzo orsono come mai la zona traffico limitato in quell'area non è stata ancora attivata? a chiederlo dai banchi della minoranza di Palazzo Cimorelli Luigi Viscione il consigliere del gruppo Vivere Venafro 86 079 come riporta oggi primo piano lo farà in modo ufficiale mediante un'interrogazione da discutere in una delle prossime sedute dell'assise civica il progetto prevede la chiusura al traffico veicolare ai non residenti nei giorni feriali dalle 18.30 alle 8 del mattino successivo per l'intera giornata nei festivi tra i principali obiettivi in una zona in cui le strade sono delle strette viuzze e i parcheggi proprio non ci sono decongestionare il traffico di auto che sovente rende difficile il parcheggio agli stessi residenti l'unico paese dove nel centro abitato ancora si cammina con la macchina secondo me i residenti del centro storico si lamentano perché non riescono neanche loro a parcheggiare e parcheggiassero fuori è complicato perché certamente a una volta devono passare le macchine ci vuole passaggi per le macchine puoi bloccare una strada ma un'altra deve sempre passare è stato troppo traffico quindi a un certo momento si snellerebbe pure il traffico credo perché uno dei salli progetti deve uscire per un motivo qualsiasi anche un centro non può passare ha bisogno di andare con la macchina perché non vorrebbe dare il discorso lo sai che non c'è una piazza dove possono parcheggiare chi ha una macchina abita sopra al castello al colle dove la macchina è dove la parcheggia questo è il discorso non c'è un parcheggio e da lì nasce l'idea della ZTL e poi che succederà io non lo so è un rebus e in attesa di sciogliere il rebus per comprendere le ragioni del rallentamento dell'iter abbiamo chiesto al sindaco i costi per la realizzazione sono onerosi circa 100.000 euro risorse che non possono essere attinte dal bilancio in essere rimarca Alfredo Ricci in realtà precisa il primo cittadino lo stanziamento c'è stato ma in seconda battuta quei soldi sono stati dirottati sugli ex LSU la vicenda risale al 2010 culminata con la condanna del comune a pagare ingenti somme ai ricorrenti che avevano lavorato per Palazzo Cimorelli fin qui ancora ricci la vicenda è costata al comune circa 800.000 euro e dunque ZTL stando così le cose se non è un addio sicuramente un arrivederci i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Isernia hanno denunciato un uomo residente nel capoluogo per aver coltivato marijuana sul balcone di casa i carabinieri avrebbero infatti notato una strana pianta sul balcone di un'abitazione posta al secondo piano e che da un controllo più attento sembrava proprio essere una pianta di cannabis e rintracciato il proprietario è stata eseguita una perquisizione dell'abitazione che avrebbe confermato che quella sul balcone sarebbe stata proprio una pianta di cannabis con infiorescenze da cui si ricava marijuana alta circa 120 cm l'uomo è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti non destinate ad uso personale e a Vasto Girardi sta nascendo un piccolo villaggio con la legna da ardere l'ideature un modo per valorizzare il territorio Attilio Lombardi di professione dipendente regionale ma durante il tempo libero crea delle vere e proprie opere d'arte con i ciocchi di legno una legnaia a forma di casa è un'altra che è una chiesa con tanto di campanile il tutto in uno scenario da favola Vasto Girardi nello specifico località Civitella un'area poco conosciuta ma che offre un paesaggio e un panorama davvero mozzafiato del resto l'idea del signor Attilio è proprio quella di valorizzare il suo territorio e l'attività di famiglia una pasticceria aperta in un angolo di paradiso è bello perché poi tutta la gente che viene là che si fa le foto rimane colpita da questo fatto qua infatti ho avuto un sacco di successo per questa cosa proprio per appunto perché la gente che viene che va da mia figlia rimane un po' il legno è una materia prima con cui ha a che fare ogni giorno visto che il signor Attilio lavora presso il vivaio regionale di Carpinone ed è proprio questo rapporto quotidiano che ha con la natura la sua fonte di ispirazione farla sempre nel modo diciamo tradizionale siccome il posto garantisce un po' una visuale quindi fare una cosa del genere è un po' diverso si può guardare e la domanda sorge spontanea ora che si avvicina l'inverno e il signor Attilio dovrà accendere il camino avrà il coraggio di smontare queste fantastiche opere d'arte noi l'abbiamo chiesto direttamente a lui purtroppo sì perché è la legna che mi serve per questo inverno quindi la casetta la tolgo e la chiesetta rimane là per un anno Attilio di tempo libero non ne ha molto manca ancora un po' alla pensione ma ottimizzando il lavoro è riuscito nel giro di qualche giorno a realizzare le due opere d'arte la casetta quella normale quella ci ho messo un paio di giorni due giorni e me questa qua ci ho lavorato un po' i pomeriggi perché non 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 avevo il tempo perché siccome lavoro quindi c'è un po' di tempo il pomeriggio vado faccio un pochino quando c'ho tempo quando no e comunque ci ho messo più o meno diciamo un po' più di una settimana potete ammirare la cura nei dettagli nella realizzazione di queste opere qui c'è il campanile guardate come sono stati sistemati i ciocchi di legno e poi guardate questa porta che ha addirittura la data scritta in latino anno domini 2023 e il signor Attilio sembra non volersi fermare il suo obiettivo realizzare un villaggio interamente in legno sarebbe bello fare un bel villaggio qualcuno già me l'ha detto fai qualcosa di più poi magari fai venire le scuole e vedete ma dai il problema più grande è quello che lo devo togliere intanto più di qualcuno sta pensando di fare delle cartoline dell'Alto Molise proprio con le legnaie di Vasto Girardi davanti a queste ipotesi il signor Attilio non nasconde una certa emozione si può fare il senatore Giuseppe Lumia già presidente della commissione parlamentare antimafia a Marchia di Segna martedì 5 settembre alle ore 18 per parlare di bullismo e valori sociali di questi temi si parlerà in piazza Baglio nel corso della quarta tappa del progetto il bullismo non va in vacanza musica giochi intrattenimento e buon cibo sono i gustosi ingredienti di una serata di fine estate This is Benafro Domenico Marzio Cronaca di una notte di fine estate metti insieme intrattenimento buon cibo senza dimenticare la cultura anche se non si vede da queste immagini c'è stata pure quella e dunque il gradimento è assicurato pomeriggio sera e notte di sabato scorso This is Benafro l'iniziativa nasce dalla sinergia tra comune e associazione con il cuore in diverse location nel cuore della città spazio dunque all'esibizione di scuole di recitazione musica dal vivo canto e ballo ad aprire le danze nel centro storico mostre di pittura e fotografia calata la sera tra un'attrazione e l'altra stand da acquolina in bocca con alcuni dei prodotti tipici più gustosi del territorio Mario Ottaviano che serata è questa diciamo che è una serata che abbiamo fermamente voluto come amministrazione è uno degli eventi cru del cartellone di questo fine estate venafrana e la risposta della gente dei cittadini è notevole quindi siamo soddisfatti per questo a proposito di consiglio comunale tra le migliaia di persone in una Miss Total White peraltro condivisa con il consigliere Ilcino uno dei motori dell'iniziativa ci imbattiamo nel primo cittadino che vi proponiamo è proprio il caso di dire in una insolita veste una splendida serata fantastica riuscidissima c'è tanta gente sono tante attività locali che stanno lavorando davvero come amministrazione ci abbiamo creduto e ci stiamo impegnando ancora di più in questa direzione la gente risponde è un punto di partenza avremo davanti nei prossimi anni davvero degli eventi importanti che dovranno rendere più conoscibile la nostra città all'esterno per le peculiarità per il lavoro che fanno le abilità e per il bello che abbiamo già di nostro che altro dire se non buon appetito grazie un'auto e una moto si sono scontrate ieri mattina sulla statale 17 all'altezza del bivio per San Polo Matese ad avere la peggio un centauro di 56 anni rimasto ferito gravemente trasportato in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco personale ANAS e forze dell'ordine per i rilevi del caso strada chiusa e temporaneamente traffico deviato su percorsi alternativi un altro incidente che invece si è verificato nelle prime ore questa mattina sulla statale Trignina all'altezza del bivio di Civitanova del Sannio dove un uomo ha perso il controllo della sua auto e si è scantato contro il muro della galleria per lui fortunatamente solo lievi ferite sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i vigili del fuoco personale ANAS e i carabinieri per i rilevi del caso manutenzione e riorganizzazione della pineta e completamento del porto turistico della marina di Santa Cristina tra le priorità dell'amministrazione comunale di Campomarino il nuovo progetto affronta il problema dell'insabbiamento del porto vediamo il servizio di Francesco Adamo Campomarino ha tutte le caratteristiche per poter fare un ulteriore salto di qualità nella sua offerta turistica è da anni bandiera blu e questo è certamente un merito ma ha delle ricchezze che rafforzerebbero certo la sua condizione il miglioramento del verde non dimentichiamo che tutta la spiaggia di Campomarino è circondata da Pineta a garanzia dell'ossigerazione dell'aria e addolcimento del clima e possede un'altra ricchezza incompiuta il porticciolo ma come stanno le cose come il comune intende intervenire la Pineta ad esempio che per giunta ha subito due anni fa parzialmente un incendio devastante quanto riguarda la Pineta noi nel mese di aprile abbiamo inoltrato un progetto per la manutenzione della Pineta così come la vediamo adesso la Pineta che si è salvata dall'incendio e l'aria è sottoposta a dei vincoli imposti dalla comunità europea una zona SIC noi abbiamo fatto anche la valutazione di incidenza ambientale e i tecnici della regione ci hanno risposto ci hanno chiesto dei chiarimenti e delle integrazioni a cui stiamo rispondendo in questi giorni e contiamo che entro il mese di settembre di avere l'autorizzazione per la manutenzione della Pineta quindi inizieremo i lavori appena possibile per rendere quel posto più guardabile dico io perché adesso così com'è chiaramente è bello vedere il verde però è un verde che non viene più su cui non viene fatto più manutenzione ormai da oltre dieci anni e poi cosa impedisce al porto turistico di decollare? durante il 2021 abbiamo iniziato come amministrazione una interlocuzione con il ministerio dei lavori pubblici perché oramai sono più di vent'anni che il comune di Campomarino è destinatario di una somma importante per il completamento del porto però questa somma era vincolata al reperimento di un partner privato che purtroppo non si è mai fatto avanti e quindi abbiamo chiesto al ministero la possibilità di utilizzare questi fondi direttamente per risolvere per lo meno il problema dell'instabbiamento del porto costruire una nuova diciamo in bocco in base a uno studio di cui già il comune è titolare però dal 2021 ecco siamo arrivati al 2023 il comune ha fatto la sua delibera e l'ha fatto anche la regione però insomma questa delibera non è arrivata mai al ministero adesso l'abbiamo mandata anche grazie al nuovo governo regionale e contiamo ecco di avere la possibilità di sfruttare questi fondi stanziati per il comune di Campomarino sul bilancio nazionale oramai da più di vent'anni un incendio ha distrutto il capannone dell'azienda agricola Desiderio lungo la statale 87 in territorio di Porto Cannone le fiamme come riferisce TermoliOnline.it hanno devastato il capannone utilizzato come rimessa per le attrezze e danni ammonterebbero secondo le prime stime ad almeno 300 mila euro sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i carabinieri la matrice del rogo parrebbe di origine dolosa e si è chiusa ieri ad Agnone Casearia la rassegna dei formaggi italiani organizzata dall'omonima associazione la seguita per noi Michele D'Alessio Com'è nata questa tre giorni? E' nata dalla constatazione del fatto che nel centro-sud non esistono fiere che raggruppano più regioni non esistono fiere nazionali dei latticini un'azienda dalla Sicilia fino a Parma o fino alle Marche se vogliamo per poter promuovere i propri prodotti deve andare o a Brau o a Bergamo o a Cittadella di Padova a Siago e questo ci sembrava un grosso gap che bisognava colmare questa fiera nasce proprio con questo intento di raggruppare le regioni italiane e di fare qualcosa non in contrapposizione ma diciamo affiancare a queste realtà ormai consolidate del nord Italia faccio i complimenti a chi ha ideato organizzato questo primo evento a cui spero ne seguano ulteriori nei prossimi anni perché davvero credo che c'era bisogno di una manifestazione del genere in Alto Molise per il Molise e per tutti i produttori caseari molisani bell'evento deve essere migliorato in qualche aspetto le istituzioni devono farsi trovare pronte rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio le esigenze dei produttori di latte dei produttori di mozzarella e formaggi e credo che sia un'esperienza che oggi si chiude ma davvero piacevolissima importantissima su cui fondare nuove esperienze in tal senso quanto latte lavorate voi mediamente ogni giorno? Al momento siamo su 250 quintali giornalieri e cerchiamo di mantenere una produzione costante tutto l'anno produciamo sia latticini freschi che formaggi stagionati e cerchiamo di aumentare sempre di più le produzioni Il nostro prodotto è molto ricercato molto richiesto in Molise soprattutto in Agnone i nostri paesi limitrofi ma riusciamo a spingerci in tutta Italia raggiungiamo posti d'Europa e anche extra Europa Io sono Mimmo Lavecchia e sono il titolare del caseificio Il Casolare di Alvignano provincia di Caserta e oggi mi trovo qua a portare la nostra bufala campana top con la ricotta di bufala campana top e la mozzarella affumigata di bufala campana top Questo caseificio l'ha aperto lei Mio padre e io vengo appresso a lui e quest'anno diciamo inizia il mio cinquantesimo anno di attività Da ieri fino al prossimo 6 settembre una truppo di una televisione giapponese sarà a Bagnoli del Trigno per girare un documentario sulla vita in paese e i contatti con il centro in provincia di Sernia sono stati frequenti nei mesi scorsi fino a quando la casa di produzione ha deciso di raggiungere l'Italia per girare il docufilm nelle riprese sul campo la troupe sarà accompagnata dal gruppo volontariato Bagnolesi bene ora ci spostiamo al touch dove Antonia Cristinzio ci aggiorna sulle ultime notizie dall'Italia e dal mondo Sì Antonio vediamo le notizie delle ultime ore la cronaca in evidenza sull'Ansa donna uccisa a Roma sull'addome il segno di coltellate il corpo trovato nell'androne di un palazzo nella zona trionfale prima valle gli investigatori seguono la pista del gesto di un ex Sky TG24 il conflitto russo-ucraino Putin incontro con Erdogan un successo ok trattare sul grano si è concluso l'incontro tra il presidente russo e il suo omologo turco Erdogan associ i colloqui sono stati molto costruttivi ha detto il portavoce del Cremlino sottolineando che Russia e Turchia non firmeranno alcun documento Zaleski nomi al fedelissimo Umerov nuovo ministro della difesa dopo aver silurato Resnikov accusato di corruzione lanciati numerosi droni su russi su Odessa per colpire le infrastrutture agricole ucraine TGcom24 Papa Francesco il prossimo viaggio potrebbe farlo Giovanni XXIV sul volo di ritorno dalla Mongolia il pontefice ironizza sulla prossima missione in Vietnam e poi dice la cultura russa non va cancellata a DN Kronos invece è Trento il papà biologico è malato bimbo sarà adottato dall'altro padre il sì del tribunale la sentenza a Trento arrivata in tempi brevi dopo che il padre naturale del piccolo ha iniziato ad avere problemi di salute Antonio erano queste le notizie di questa sera grazie Antonia e ora spazio al meteo il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino previsioni per oggi 4 settembre l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche annuvolamento all'alba nello specifico sui litorali c'è l'imprevalenza sereno poco nuvolosi per l'intera giornata sul subappennino giornata con tempo variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio sull'appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa salvo presenza di nubi sparsi al mattino 20 tesi settentrionali mare da mosso o molto mosso temperature campo basso minima 19 massima 26 Isiania minima 20 massima 28 termoli minima 22 massima 26 venafro minima 18 massima 30 previsioni per domani 5 settembre un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile da solo a dovunque nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa salvo presenza di nubi sparsi al mattino sul subappennino e sull'appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata venti moderati dai quadranti nord-occidentali mare molto mosso temperature campo basso minima 14 massima 22 Isiania minima 17 massima 26 termoli minima 22 massima 25 venafro minima 18 massima 28 e con il meteo è tutto grazie per averci seguito l'appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale grazie a tutti